Ok, in questo video parliamo dei CSS Fonts, che quindi ci aiutano a definire lo stile di un carattere, o di una parola, o di una frase, quindi qualunque cosa cui essa sia applicata. Quindi, noi possiamo avere diverse proprietà, tra cui ci sono quindi Font Sites, Line 8, Font Weight, Font Family, Text Align, Text Decoration, e poi ne abbiamo anche molte altre, però in questo video andremo a parlare solamente di queste, perché sono comunque le principali, quelle che sicuramente sono più usate. Quindi, andiamo subito ad aprire il nostro Text Editor, e qua c'è la mia pagina, quindi che presenta solamente un H1 e due paragrafi. Ok, quindi andiamo subito all'azione per far vedere che cosa serve questo Font Family. Quindi, selezioniamo un paragrafo, ok, e abbiamo proprio qua Font Family, e vediamo che abbiamo diverse alternative. Quindi, in base all'alternativa che scegliamo, essa definirà un po' lo stile, quindi, dei nostri paragrafi. Quindi, ad esempio, abbiamo questo qua, molto lungo, va bene, vediamo come fa a cambiare il nostro testo, e vediamo infatti che gli dà proprio questo stile particolare. Andiamo a vederne un altro, torniamo indietro, andiamo se mi dà di nuovo, ops, non mi dà più le opzioni, ok, le dà di nuovo, vediamo questo. Salviamo, vediamo che cambia di nuovo, e quindi, in base al Font che volete, potete un po' cambiare e testare per i fatti vostri. Volevo un po' ad aprire, eh, Font, CSS, vediamo che cosa appare, ok. Abbiamo questa bella pagina che ci spiega, quindi, anche i tipi di Font Family generali, quindi abbiamo questa Generic Family e questa Font Family, invece. Ci sono anche dei vari esempi, quindi, come Generic Family abbiamo questa, tipo, ci sono dei vari esempi, tipo questo Serif, questo Monospace, e invece, come Font Family abbiamo questo, ad esempio, Times New Roman, che possiamo trovare anche qua. Si chiama, si chiama Times New Roman, ok, vediamo come appare, ed ecco che è così. E poi ce ne sono anche molti altri, possiamo un po' a vedere, possiamo testare anche per i fatti nostri. Perfetto. Volevo un po' parlare, cioè, del perché ci sono tre, tre nomi, praticamente. Ci abbiamo il primo, tipo, Times New Roman, poi Times, poi Serif. Lo stesso vale anche per gli altri, tipo, che ne so, metto un C, mi sfunta Cambria, Cucin, Georgia, vanno tutti insieme nella stessa riga. Questo perché, in base al browser che abbiamo, esso potrà o non potrà leggere questi vari font. Quindi, ad esempio, se il nostro browser non legge Cambria, proverà con questo Cucin, Cucin, non so come si pronunci. Se non lo leggerà, passerà questo Georgia, e poi a Times, e poi così via, finché non troverà quello che potrà leggere e che quindi potrà usare. In questo caso, il nostro testo appare così. Quindi, perfetto, questi sono i font family. Magari lo commentiamo fuori. Passiamo all'altro, che è il font size. Quindi, vediamo, abbiamo un paragrafo. Abbiamo il font size, che comunque abbiamo visto nel video dell'esercizio. Quindi, possiamo dare una nostra grandezza, quindi perché determina, appunto, la grandezza. Vediamo in pixel, diamo un 20 pixel al nostro paragrafo, che credo diventerà molto grande. Non tanto, però è diventato più grande di prima. Perfetto, quindi questo è quello che fa il font size. Ne possiamo dare anche 10, 20, quello che vogliamo, 40, 50. In base alle nostre esigenze. Lo commentiamo pure fuori. Passiamo subito all'altro, che è il font weight. Quindi, font weight. Però, prima devo selezionare, ovviamente, sempre il nostro paragrafo. Font weight, ok, perfetto. Questo qua va da 100 a 900, come infatti ci consiglia VS Code. E vedete che qua c'è pure una piccola descrizione. Quindi 100 sta per fin. Quindi, diciamo, è molto magro, perché font weight definisce quindi lo spessore, che quindi può essere, quindi, extra light, light. Qua è 400, è normale, 500 un po' più grande, lo definisce medio, 600 è mezzo bold, vabbè, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a 900. Quindi noi magari diamo un 600, vediamo se cambia qualche cosa. Ecco, vedete che diventa molto più spesso, che diventa molto simile, anzi, al nostro H1. Perché, ovviamente, gli H1, H2, H3 hanno già stili ben definiti. Ma questo già lo sappiamo. Quindi questo è il font weight. Quindi in base alle vostre esigenze, date ovviamente quello che volete. Qua diamo un 200, vedete, diventa molto snello, molto magro il nostro testo. Ok, perfetto. Andiamo a commentare sempre fuori il nostro amico. Passiamo al prossimo, che era line 8. Dovrebbe essere così. Ok, questo è line 8. Quindi andiamo sempre a usare il nostro paragrafo come test. Ok, quindi line 8. Ok, come potete immaginare, questo qua definisce, quindi, l'altezza della linea. Quindi quanto spazio ci sarà, ad esempio, fra questi due paragrafi. O fra il titolone e il primo paragrafo. Quindi noi, ad esempio, vediamo un 30 pixel. Vediamo cosa cambia. È diventato... L'altezza è un po' più alta. Quindi c'è un po' più di spazio fra i due paragrafi. Come abbiamo visto. Vediamo... Cerchiamo di avere una differenza più evidente. Ed ecco qua che è molto più evidente. Di solito, ovviamente, è molto di meno l'altezza fra... La differenza, quindi, fra i due paragrafi o fra i due testi. Vediamo con un 10. Ok, lo possiamo lasciare così. Quindi, questo, lo commentiamo pure fuori. Ops. Ok, ora ci siamo. Ok. Poi abbiamo text align. Questa qua è pure... È molto utilizzata. È molto utile, sicuramente. Ok, perfetto. Quindi questa qua che serve? Serve proprio a impostare, diciamo, il nostro testo. Quindi ho il centro, a destra, a sinistra. Un po' dove ci fa. Comodo. Quindi, ad esempio, il titolo molto spesso è al centro. Quindi prendiamo il nostro H1. Mettiamo text align. E vedete che qua abbiamo diverse opzioni. Noi usiamo centro. Ok. Perfetto. Quindi adesso il nostro titolone sarà al centro. Ed è come lo vogliamo noi. Magari noi vogliamo tutto al centro. Ok, perfetto. Quindi adesso sarà tutto al centro, tutto un po' più ordinato. Ok, questo è text align. Pure molto semplice. Poi, ovviamente, possiamo mettere centro, destra, sinistra. Vediamo un attimo a destra. Ok, adesso è spunta tutto a destra. Però, credo che al centro risulti un po' meglio. Però, comunque, andiamo a commentare fuori. Quindi, non abbiamo di questi problemi. E l'ultimo è text decoration. Decoration. E' così. Ok. Questo qua è pure una proprietà molto carina da usare. Quindi, andiamo sempre a selezionare i nostri paragrafi, magari. Abbiamo text decoration. E vediamo che abbiamo diverse opzioni. Qua c'è dei colori, ma non è i colori che noi importa. Quello che volevo far vedere era altro. Vediamo se qua mi aiuta. Quindi, text decoration. CSS. Ecco qua che abbiamo quattro proprietà molto utili che possiamo usare. Quindi abbiamo overline, line true, underline e underline overline. Ok. Andiamo a vedere come appare. Quindi, andiamo con un overline. Ok. E vediamo che abbiamo proprio questa linea che è infatti over e sopra il nostro paragrafo. Non è molto bella da vedere. Underline per me è più bella, come potete intuire. Era una linea sotto. Quindi underline. Ok. Così può starci. Diciamo che in alcune situazioni può anche risultare utile. Poi abbiamo questa qua. Line true. True. Ok. Lasciamo stare la mia pronuncia di questa parola. Quindi andiamo overline. Ok. Salviamo. Ed ecco che fa proprio questo. Quindi, taglia il nostro testo a metà con questa linea. In qualche caso può anche servire. In qualche caso, anzi, nella maggior parte no. Però è comunque qualcosa che potrebbe fare utile. Ok. Quindi per questo video è tutto. E ci vediamo nel prossimo. Ciao.